Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale che da Ragusa conduce a Chiaramonte all'altezza del quinto chilometro. Per causa ancora in via d'accertamento sono andate a scontrarsi due auto, una Fiat Punto che ha subito la rottura del semi-asse e una Golf che è andata a sbattere sul guardrail. Per fortuna i due conducenti non avrebbero riportato gravi ferite. Diversi purtroppo gli incidenti in questi giorni di festa nelle strade eblee, per fortuna senza gravi conseguenze. Ieri mattina una Nissan sulla Ragusa Mara all'altezza della trattoria La Masseria, per causa ancora da accertare, ha impattato contro il muro ribaltandosi sul fianco. Sempre a Ferragosto, ma nella serata sulla Ragusa Catania, in territorio di Chiaramonte e Gulfi, un 43enne di Calta Girona ha perso il controllo della propria Peugeot 206 Station Wagon ed è finito fuoristrada. Per fortuna non ha riportato danni serie e alla fine in ospedale gli sono state riscontrate soltanto escoriazioni di lieve entità. Tra i giorni di prognosi, sul posto per i rilievi del caso, la polizia stradale. La vigilia di Ferragosto, invece, un altro incidente autonomo notturno, per fortuna senza gravi conseguenze, si era verificato sulla strada statale 115 che da Ragusa porta a Modica. Un 44enne modicano in sella alla sua Vespa ne ha perso il controllo finendo sull'asfalto. A segnalare l'incidente, altre automobilisti in transito che hanno prestato anche le prime cure. È intervenuta la polstrada per i rilievi, mentre il traffico veicolare ha subito un lieve rallentamento. Trasportata in ospedale, l'uomo è stato giudicato guaribile in un mese per le ferite riportate. Le forze dell'ordine raccomandano massima prudenza e hanno intensificato in questi giorni i controlli per cercare di limitare i comportamenti scorretti al volante, spesso causa di incidenti, come l'uso del cellulare alla guida e l'abuso di sostanze alcoliche. Grazie a tutti.